Tutti contro tutti, o meglio, tutti contro il governo. Manca ancora qualche giorno al 4 maggio, ma la Toscana ha fretta di mettersi in moto. Sul come, le idee non mancano. Partiamo dal governatore Enrico Rossi, che da subito, pur avendo incassato il via libera alle attività strategiche, non ha risparmiato critiche al governo. L'ultimo suggerimento per la fase 2 è l'attività motoria, che secondo l'esecutivo, riprenderà il 4 di maggio. Mi piacerebbe, dice Rossi, con il consenso dei sindaci, permettere da subito attività motoria all'interno del territorio comunale, a piedi o in bicicletta, in modo individuale, e permettendolo al genitore con i propri figli di età inferiore ai 18 anni, e alle persone non completamente autosufficienti con il loro accompagnatore. Eugenio Gianni, invece, punta sugli affetti. In Toscana, riaprire i cimiteri, dice l'attuale presidente del Consiglio regionale. I nostri comuni possono accelerare, non vedo rischi, si faccia un passo avanti. Sono molto più materiali le esigenze del commercio. Negozi al dettaglio, parrucchieri, bar, ristoranti. Nella tabella di marcia, scelta dal governo, loro saranno gli ultimi a uscire dal lockdown. Conf Commercio Toscana, per esprimere il proprio dissenso, non ha scelto la strada della diplomazia. Non è timido il governo, è del tutto inadeguato. Noi siamo in mano a una classe dirigente totalmente incapace. E questo acuisce le conseguenze di una sventura come quella che ci è capitata. Perché ci fosse capitata in condizioni normali sarebbe stato un grande problema. In queste condizioni, con un governo come quello che abbiamo, è una tragedia. Le linee guida tracciate da Conte per la fase 2, insomma, sono riuscite nell'impresa di mettere tutti d'accordo. Nel senso che non piacciono a nessuno.